croce alata croce materializzata presso il cerchio e seno questo cenacolo ha ricevuto attraverso il medium nt più di 4000 apporti in più di 40 anni di attività alcuni dei maestri che si sono succeduti negli insegnamenti si chiamano raggio il pensatore il mediatore e il cerusico quest'ultima entità che opera a guarigioni attraverso lo strumento in trance è stato albert speitzer 1875 1965 medico e filantropo musicista e musicologo teologo filosofo biblista pastore e missionario luterano franco tedesco nato in alsazia nel 1913 speitzer premio nobel per la pace nel 1952 fondò a lamba rene nella parte occidentale del gabon il suo celebre ospedale attualmente l'ospedale speitzer ha numerosi reparti e un centro di ricerca medica per la malaria